Grazie Milano, ora è il momento di focalizzarci su rapporti economici con i paesi del Medio Oriente come vi avevamo anticipato. Proprio ieri i dati dell'Istat che hanno evidenziato come le marche siano tra le regioni che nei primi tre mesi dell'anno hanno più contribuito all'export nazionale, soprattutto con destinazioni extraeuropeie. E nei giorni dell'Endurance Lifestyle, l'evento che rafforza i rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, facciamo il punto sulle possibilità economiche offerte dai paesi Medio Oriente. Nostro ospite è quest'oggi Fabrizio Fraboni Baroni, architetto Iesino, supporta le imprese che vogliono agganciare il Medio Oriente. Buongiorno, ci sono delle grandi opportunità per le imprese anche piccole, anche marchigiane in Medio Oriente? Assolutamente sì, perché questi paesi che fino ad ora hanno basato la loro economia sui idrocarburi stanno cercando di trovare nuove strade. Queste nuove strade sono il turismo, i servizi e la produzione. Quindi in concreto si stanno costruendo porti, aeroporti, hotel, villaggi turistici e le aziende possono trovare, se giustamente indirizzate, delle opportunità di lavoro concrete sin da domani. E allora come inserirsi sin da domani in questi mercati? Cosa bisogna fare? Quali gli errori da non fare? Allora gli errori da non fare è pensare di fare un viaggio e ottenere dei risultati subito perché come dire la cultura araba non prevede questo, quindi conoscere l'identità del luogo, farsi aiutare da dei PR capaci o delle persone che hanno già un'azienda lì capace e poi trovare un socio locale che sia in grado di credere nel prodotto che tu vuoi vendere e aiutarti nel trovare i canali per venderlo. Il Made in Italy ha ancora un valore importante? Il Made in Italy ha un valore fantastico. Noi viviamo grazie a questa aurea che ci siamo costruiti, che potremmo definire la gioia di vivere, bellezza, storia, cultura, che ci dà un vantaggio irraggiungibile. Ancora una sua presa? Fortissima direi. È su quella che noi dobbiamo ricostruire il nostro futuro attraverso uno slancio fatto di fiducia verso un futuro pieno di opportunità. Secondo la sua personale opinione eventi come Endurance Lifestyle aiutano questo processo? Assolutamente sì, sono come dicevo prima un primo passo che comunque deve servire da cinghia di trasmissione per altri tipi di azioni che sono come le dicevo trovare un partner, fare molti viaggi, basarsi eventualmente attraverso una joint venture con un partner in quelle località, in quei luoghi, in Omani, in Qatar, negli Emirati Arabi e poi presenziare, ecco questa è la parola chiave, presenziare il territorio al fine di non pensare che un viaggio risolva la vita. Non è così. Grazie, grazie per il suo intervento. Andiamo avanti con il nostro telegiornale.